Indiscrezioni, rumoros, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velve e Gocci di Gossi. Questa volta vi parliamo di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, Ilari Blasi, Soleil Soghe, Cristiano Maglioglio, Mauro Marin, Tara Gabrieletto. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo secondo quanto riporta il settimanale chi nella rubrica Chicchi di Gossi i Pidui dovrebbero passare il Natale insieme. Sono, probabilmente, provi di riavvicinamento e di pace in corso d'opera, dopo la forte crisi che stanno vivendo dall'estate scorsa.Ilari Blasi e Soleil Soghe non ha fatto il tempo a chiudere la porta rossa che lei già stava con un altro. Non mi convince come storia. E non ha convinto il pubblico, ha detto la conduttrice del Grande Fratello Vip attraverso un'intervista al settimanale Chi dopo la finale.Cristiano Maglioglio vorrei fare un programma musicale. Il mio sogno è lavorare con Maria De Flì. Vorrei fare amici. Quello è il mio pane. Mi vedo nel ruolo 501 giudice, ha detto ai microfoni di EG. Il programma condotto da Roberto Arduin e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus.Mauro Marino Natale quest'anno 101 riserva un regalo davvero speciale. Diventeremo presto genitori, ha scritto il vincitore dell'edizione 2010 del Grande Fratello Mip sul suo profilo ufficiale di Facebook. Per annunciare la gravidanza della fidanzata Jessica.Tara Gabrieletto, l'ex corteggiatrice di uomini e donne, si è rifatta il naso. Nessun dolore, ripeto nessun dolore.